questo è il canestro con cui ha fratturato frantumato il record per punti in carriera di will chamberlain si è riterato con quasi 40.000 punti un record che non sarà mai avvicinato molti punti con questo gancio cielo morbidissimo karim abdul jabbar qui nelle battaglie con will chamberlain nate turmond e altri giocatori ha preso qualche stoppata ma ha rinfilato altrettanto karim abdul jabbar considerato da moltissimi il più grande giocatore di ogni tempo questo gancio cielo a distanza dove altri giocatori tirano in sospensione è stato proprio il suo marchio uno pensa karim pensa gancio cielo proprio il tiro più riconoscibile nella storia della pallacanestro spero che la gente possa apprezzare la mia attitudine professionale come ho fatto il mio approccio allo sport se possono apprezzare questo io non ho nessuna lamentella non ho nessuno non ho nessuno nessuno ha mai giocato il ruolo di centro come karim bill russell forse uguale in difesa forse meglio forse will chamberlain meglio in attacco nessuno ha giocato difesa e attacco compreso i passaggi come karim abdul jabbar fino a 42 anni di età 20 anni in nba dal 69 al 89 nessun altro giocatore ha giocato in più di 20 stagioni e alla fine della carriera dominava faceva a differenza ancora qui l'abbraccio di will chamberlain cui record è stato battuto da karim abdul jabbar questi sono i più di karim partite giocate stagioni minuti giocate stoppati punti né a tutti quanti karim abdul jabbar forse il più grande di tutti i tempi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti